Tornare a far punti e allontanarsi dalle zone basse della classifica. Questo è l'imperativo della Russo Calcio che domani, nella gara valida per la sesta giornata di prima categoria, ospiterà a Luigi Averna l'Atletico Messina. Il campionato è appena iniziato, ma la partita sembra già prefigurarsi come uno scontro diretto. Entrambe le squadre sono appaiate al quart'ultimo posto in classifica, con quattro punti conquistati e una sola vittoria all'attivo. Per la Russo Calcio sarà dunque fondamentale dimenticarsi delle difficoltà in trasferta e trasformare lo stadio di casa in un fortino. Qualche problema di formazione per mister Musumeci. D'Angelo è out per quindici giorni a causa di una infrazione al piede destro, così come Dumitrascu con Bonomo e Pietro Pappalardo fuori per problemi lavorativi. Salvo Pappalardo tornerà invece a sedersi in panchina, non essendo ancora in forma partita. Il 4-3-3 di Antonello Musumeci dovrebbe dunque vedere il rientro di Crisa Fulli in difesa dopo l'infortunio alla caviglia e quello di Salvo Rea a centrocampo dopo la squalifica. Con Sciuto, Napoli e l'esordiente dal primo minuto cartellone in avanti.